In questo video parleremo della classificazione della miopia. Esistono diversi modi per classificare la miopia e questi diversi sistemi di classificazione possono essere utili sia da un punto di vista didattico sia da un punto di vista clinico perché possono aiutare il professionista ad affrontare e scegliere l'intervento più adeguato per le varie situazioni. Una prima classificazione l'abbiamo già vista riguardante le ametropie in generale e si basa sulla identificazione della causa primaria dell'ametropia, quindi sostanzialmente se si tratta di una ametropia assiale oppure refrattiva. La maggior parte delle miopie ha una forte componente assiale. In questa immagine possiamo vedere l'attack di un soggetto che ha un occhio sostanzialmente emetrope e un occhio molto più lungo. Ecco questo è un classico esempio di miopia monolaterale assiale. Un altro sistema estremamente utile proprio da un punto di vista clinico è andare a classificare la miopia in base alla presenza o all'assenza di alterazione della coroide e della retina, cioè sostanzialmente di alterazioni del fondo oculare. Queste alterazioni del fondo oculare sono legate proprio alla componente assiale della miopia, in quanto un occhio particolarmente lungo e quindi in qualche modo con dei tessuti stirati, ha una retina e una coroide più sottili che sono soggette a alterazioni di carattere patologico. Quindi se non ci sono alterazioni corioretiniche noi parliamo di miopia semplice. Se invece ci sono delle alterazioni della coroide e della retina noi parliamo di miopia patologica o miopia degenerativa. Nel primo caso, quello della miopia semplice, il problema è esclusivamente refrattivo. Nel secondo caso invece appunto c'è una componente legata a un aspetto patologico. Vediamo nel dettaglio. La miopia semplice è una miopia che compare nei bambini, nei ragazzi, a volte nei giovani adulti e quando appunto compare in età infantile la progressione è più rapida all'inizio e poi tende a rallentare e la progressione tende appunto a fermarsi dopo la pubertà, dopo gli anni dell'adolescenza. Di solito questa miopia semplice non raggiunge valori elevati e non ci sono ragioni per affermare che un occhio affetto da una miopia semplice abbia appunto una debolezza o una malattia o comunque appunto un'alterazione strutturale rispetto a un occhio emetrope. È soltanto un occhio sostanzialmente in cui non si è avuto un buon equilibrio fra il potere refrattivo e la lunghezza assiale e questa lunghezza assiale risulta eccessiva. Discorso completamente diverso se si parla della miopia degenerativa. In questo caso l'allungamento del bulbo è la causa primaria dello squilibrio ottico e comporta un assottigliamento e un indebolimento dei tessuti interessati con una conseguente predisposizione degli occhio a eventi patologici. Nell'immagine vediamo il confronto in una rappresentazione tridimensionale di un occhio emetrope e di un occhio che presenta una deformazione del polo posteriore. Questa conformazione si chiama stafiloma miopico e è appunto un allungamento abnorme del bulbo, tutto nella parte posteriore, che comporta un assottigliamento e un indebolimento delle strutture del polo posteriore. Questa miopia patologica causa danni anche gravi al sistema visivo e gli occhi affetti da miopia degenerativa sono soggetti a distacco di retina, rotture retiniche, emorragie retiniche, atrofie della coroide e della retina. Inoltre gli occhi molto miopi hanno un fattore di rischio aggiuntivo per il glaucoma e la cataratta, quindi sostanzialmente questa condizione va considerata a tutti gli effetti una patologia vera e propria. Nell'immagine vediamo un fondo miopico, cioè l'aspetto del fondo oculare, così come appare nel caso di una miopia patologica degenerativa di entità importante. Il fondo dell'occhio dovrebbe avere questo colore arancione uniforme, queste aree invece più chiare, pallide, sono proprio le aree di atrofia corioretinica e indicano appunto questa perdita di funzionalità e questo assottigliamento nel polo posteriore che causa un grave deficit visivo. Possiamo classificare la miopia anche in base all'età di insorgenza. Possiamo avere una miopia congenita se è presente alla nascita e permane poi nella crescita e nell'età adulta evolvendo verso una miopia sempre di entità maggiore. Possiamo avere una miopia giovanile se si manifesta entro i 20 anni di età e questa è la forma più comune. La miopia però si può presentare anche in una età adulta e allora chiameremo questa miopia della prima età adulta, quella che si presenta tra i 20 e i 40 anni di età. Quando invece la miopia si presenta dopo i 40 anni, quindi in un'età decisamente matura, si parlerà di miopia a insorgenza tardiva. Le miopie congenita, giovanile e della prima età adulta sono sostanzialmente delle miopie assiali. In generale invece la miopia a insorgenza tardiva è una miopia di natura refrattiva, per esempio una miopia dovuta alterazioni dell'indice di rifrazione del cristallino. Nella maggior parte dei casi l'entità della miopia è funzione dell'età di insorgenza, quindi tanto più precocemente insorge la miopia, tanto maggiore sarà la probabilità che il risultato finale sia una miopia elevata. Questo significa sostanzialmente che quanto più presto un bambino inizia a diventare miope, quante più probabilità avrà che la sua miopia diventi importante. Se invece la miopia inizia già in un'età abbastanza adulta, allora questa miopia tenderà a rimanere più bassa. La miopia può essere classificata anche in base all'entità. Le linee guida dell'American Optometric Association suggeriscono di classificare la miopia in lieve, quando è inferiore alle 3 diottrie, media fra le 3 e le 6 diottrie, e considerare invece le miopie elevate per valori superiori alle 6 diottrie. Maggiore è l'entità delle miopia, maggiore la probabilità che si verifichino alterazioni corioretiniche e quindi che la miopia non sia una miopia semplice, ma sia una miopia patologica. Per questo motivo, in molti casi, si consiglia per tutti i miopi superiori alle 6 diottrie di seguire dei controlli oculistici regolari, proprio per escludere l'insorgenza e eventualmente monitorare lo sviluppo di queste complicanze. L'American Optometric Association suggerisce anche una classificazione clinica della miopia, basata sostanzialmente sulle sue espressioni cliniche. Questa classificazione comprende delle miopie che abbiamo già visto e dei tipi di miopia invece piuttosto particolari che andremo a descrivere. Quindi la miopia viene classificata in semplice, notturna, pseudomiopia, degenerativa oppure acquisita. La miopia semplice è quella che abbiamo già descritto precedentemente, è la condizione più diffusa, è caratterizzata da un occhio che per il resto è normale, ma ha un'anomalia esclusivamente ottica. In generale il problema refrattivo è inferiore alle 6 diottrie. Questa miopia semplice è sempre più diffusa nelle giovani generazioni. La miopia notturna o crepuscolare invece è stata descritta per la prima volta alla fine del 1700 da un astronomo, il quale si è accorto che malgrado la sua vista fosse decisamente buona durante il giorno, osservava invece un peggioramento della visione guardando le stelle perché appunto era un astronomo la notte ovviamente. Questa miopia è sempre di lieve entità, intorno a mezza diottria 0,75 diottrie. È una miopia che appunto come dice il nome si manifesta soltanto in scarsa illuminazione, anzi si può dire quando l'illuminazione diventa veramente molto molto scarsa e sono state date diverse spiegazioni di questo fenomeno. Una spiegazione che è stata data alla miopia notturna è legata al punto di riposo dell'accomodazione. Normalmente noi consideriamo che il cristallino sia in condizione completamente disaccomodata quando guardiamo da lontano e invece eserciti un certo grado di accomodazione soltanto quando guardiamo da vicino. In questa ipotesi, in questa teoria, in questo modello dell'accomodazione, il muscolo ciliare, che è quello che appunto modifica la forma del cristallino, è completamente rilassato quando guardiamo da lontano e completamente invece contratto quando guardiamo da vicino. Il muscolo ciliare è sotto il controllo sia dell'innervazione simpatica sia dell'innervazione parasimpatica e l'accomodazione in particolare, quindi la contrazione del muscolo ciliare, quello che noi vediamo qui nella parte destra della figura, è legata alla stimolazione dell'innervazione parasimpatica. Esiste un altro modello che spiega l'accomodazione. In questo modello sostanzialmente parasimpatico e simpatico sono in competizione e prevale il tono del parasimpatico quando guardiamo da vicino e del simpatico quando guardiamo da lontano e questa disaccomodazione che serve per guardare da lontano viene proprio stimolata dalla presenza di stimoli visivi lontani, in condizioni in cui non c'è uno stimolo visivo, quindi completamente al buio, e per quello che in inglese si parla appunto di dark focus, o eventualmente in una condizione completamente nebbiosa, quindi in assenza di stimolo visivo e campo non completamente nero ma completamente bianco, completamente nebbioso, il sistema visivo andrebbe a posizionarsi in una condizione di equilibrio che non è né completamente disaccomodata né completamente accomodata, cioè sostanzialmente in uno stato riflattivo intermedio leggermente più potente rispetto alla condizione che permette di guardare da lontano e quindi sostanzialmente il dark focus sarebbe responsabile di una lieve entità di miopia, in questo caso appunto come dicevamo la quantità di miopia sarebbe comunque inferiore a una diottria. Ci sono altre spiegazioni che possono appunto giustificare la presenza di questa miopia notturna. Una, per esempio, è lo shift di Purchinie. Cosa si intende per shift di Purchinie? Si intende il fatto che i fotorecettori che sono attivi di giorno, cioè i coni, sono sensibili a una lunghezza d'onda intorno al giallo, 555 nanometri, che è più lunga rispetto alla lunghezza d'onda che costituisce un picco di sensibilità dei bastoncelli. I bastoncelli sono i fotorecettori che entrano appunto in funzione la notte. Il picco di sensibilità dei bastoncelli è 505 nanometri, quindi una lunghezza d'onda più corta. Le lunghezze d'onde più corte vanno a fuoco prima, vanno a fuoco davanti alla retina e anche questo può giustificare uno spostamento della sensibilità dell'occhio verso una refrazione più miope. Esiste un'ulteriore spiegazione alla miopia notturna e è legata al diametro pupillare. Quanto meno luce c'è nell'ambiente, quanto più è grande la pupilla. Quindi in questa immagine che noi vediamo, nella parte bassa abbiamo la visione fotopica di giorno, nella parte intermedia la visione mesopica, crepuscolare, e nella parte alta la visione scotopica, cioè al buio. In questo caso si tratta di un soggetto molto giovane con una pupilla molto grande e questo diametro pupillare diventa estremamente ampio appunto in condizione di bassa, bassissima illuminazione. Quando la pupilla diventa molto grande entrano nell'occhio anche raggi marginali, quindi non solo raggi parassiali e la presenza di un diametro grande fa sì che aumenti l'aberrazione sferica dell'occhio, cioè sostanzialmente nell'aberrazione sferica i raggi marginali vanno a fuoco prima rispetto ai raggi parassiali. Quanto più è grande la pupilla, quanto più sarà questa differenza fra il fuoco dei raggi marginali e il fuoco dei raggi parassiali. Poiché i raggi marginali vanno a fuoco prima, quindi vanno a fuoco davanti alla retina, anche questo fenomeno contribuisce a spostare la rifrazione dell'occhio in direzione della miopia. È possibile che appunto tutti questi fenomeni si sommino per andare a giustificare questa lieve entità di miopia notturna che alcune persone osservano. Ovviamente in questi casi è necessario correggere solo se si verifica la necessità di vedere meglio la notte e le persone si accorgono di un peggioramento visivo esclusivamente la notte. Esiste un'altra condizione affine alla miopia che non è una vera e propria miopia e che appunto viene chiamata pseudomiopia. È una forma reversibile di miopia, anch'essa legata all'ottica del cristallino. Come dicevamo prima, lo stato refrattivo viene normalmente considerato ad accomodazione completamente rilassata, quindi quando il cristallino è completamente disaccomodato. In alcuni soggetti giovani avviene, si osserva, uno spasmo dell'accomodazione, cioè sostanzialmente il muscolo ciliare non si rilassa completamente ma rimane sempre leggermente contratto. Questa lieve contrazione del muscolo ciliare causa un incurvamento del cristallino, quindi un aumento di potere del cristallino che causa un non voluto aumento del potere complessivo dell'occhio e quindi una pseudomiopia che è risolvibile nel momento in cui si riesce a rilassare completamente il muscolo ciliare. È una situazione ovviamente legata a persone giovani che hanno molto potere accomodativo e un buon tono del muscolo ciliare e spesso è ricondotta all'abitudine di stare molto tempo in visione da vicino, quindi molto tempo a leggere, molto tempo al computer, a studiare e quindi questa continua contrazione del muscolo ciliare provoca una difficoltà nel rilassare l'accomodazione quando si guarda da lontano. È una situazione transitoria, spesso variabile e che non è legata appunto a un difetto refrattivo vero e proprio perché come dicevamo c'è una componente accomodativa. Nella classificazione che stiamo osservando ora passiamo poi appunto alla miopia degenerativa, quella che abbiamo già descritto in precedenza che è la forma più diciamo elevata di miopia e anche più preoccupante perché appunto è associata a alterazioni del segmento posteriore dell'occhio. Infine, l'ultimo tipo di miopia compreso in questa classificazione è la miopia acquisita o indotta. È legata di solito a situazioni traumatiche, patologiche, chirurgiche e spesso è legata all'età, quindi a condizioni sistemiche o oculari che possono subentrare appunto nelle persone più avanti negli anni. È legata per esempio a una cataratta, in particolare la cataratta nucleare causa una miopia da indice. Può essere legata anche all'utilizzo di particolari farmaci o a variazioni della concentrazione di zuccheri nel sangue. Per esempio nelle persone diabetiche si possono avere degli ametropie da indice e a seconda della concentrazione di zuccheri anche appunto una miopia acquisita, indotta da questo tipo di patologia. Bene, a questo punto proviamo a fare uno schema che riassume ciò che abbiamo detto fino a ora. Quindi noi possiamo classificare la miopia in base alla causa primaria, quindi se assiale o refrattiva. Possiamo classificare la miopia in base alla presenza o assenza di alterazioni della coroide e della retina. Inoltre possiamo classificare la miopia in base all'entità identificando una miopia lieve, media o elevata. Infine possiamo classificare la miopia in base all'età di insorgenza. La miopia può essere presente alla nascita, congenita oppure presentarsi in un'età giovanile, adulta o in un'età matura e quindi essere a insorgenza tardiva. Proviamo ora a legare questi concetti con la classificazione clinica della miopia e quindi proviamo per esempio a identificare alcuni elementi caratteristici della miopia semplice. Nella miopia semplice le alterazioni corioretiniche sono assenti, è in generale di entità lieve o media. Si presenta per lo più in età giovanile o eventualmente nei giovani adulti e ha una componente fortemente assiale. La miopia patologica invece è caratterizzata proprio per definizione dalle alterazioni corioretiniche. Ha un'entità elevata e proprio questo allungamento dell'occhio marcato causa le alterazioni corioretiniche. Può essere congenita, per esempio esiste una miopia patologica elevata del prematuro, tipicamente congenita, oppure si presenta nei primissimi anni di vita e, cosa caratteristica, continua a peggiorare durante le varietà della vita. Quindi, a differenza della miopia semplice che poi a un certo punto si ferma, la miopia degenerativa patologica tende sempre ad aumentare e quindi questo allungamento dell'occhio, perché la miopia patologica è appunto di natura prettamente assiale, questo allungamento dell'occhio può proseguire per tutta la vita. Vediamo invece ora una situazione completamente diversa, quella della pseudomiopia. La pseudomiopia non presenta ovviamente alterazioni corioretiniche, è di entità estremamente lieve, si presenta nei giovani perché è necessario avere un buon potere accomodativo e è di natura refrattiva, perché non è dovuta a un allungamento dell'occhio, ma è dovuta sostanzialmente a un eccesso di curvatura del cristallino dovuto a una contrazione, uno spasmo dell'accomodazione. Un discorso abbastanza simile a questo lo possiamo fare per la miopia notturna, è di nuovo un'alterazione legata agli elementi refrattivi dell'occhio, non all'allungamento assiale, quindi non ci sono alterazioni corioretiniche, l'entità è estremamente lieve e si presenta, inizia in età giovanile, eventualmente anche in età adulta. Altro caso è la miopia acquisita o indotta, in questo caso le alterazioni corioretiniche sono assenti, anche se sono presenti altri tipi di patologie, l'entità può essere lieve o eventualmente anche moderata. L'età di insorgenza è tipicalmente tardiva e quindi legata appunto anche a processi di invecchiamento. Non c'è una componente assiale, perché quando uno diventa miope ed è decisamente adulto non gli si è allungato l'occhio, ma in realtà quello che sta succedendo è una variazione degli elementi refrattivi dell'occhio, quindi è prettamente una miopia refrattiva.